Su Instagram Mercedes Zenger mette in mostra quello che farà durante la festa degli innamorati. E come al solito strappa sorrisi, applausi e complimenti. Arriva San Valentino, e Mercedes Zenger riceve per la festa degli innamorati un bellissimo regalo. Il suo compagno Luca Speracchile ha organizzato un viaggio a Napoli, con la coppia che ha già raggiunto il capoluogo partenopeo. La figlia di Eva, bella come è da volte addirittura anche più della sua comunque sempre splendida mamma, certamente non perderà l'occasione per visitare alcune delle altre magnifiche località nei dintorni del capoluogo campano. Ma di certo il panorama più bello lo offre proprio la stessa Mercedes Zenger. La 29enne nata in Ungheria ma italiana di adozione appare in splendida forma. Come sempre, del resto. Amore, cosa hai organizzato per dopodomani, punto. Ma niente, controlla un po' se gioca l'Inter. È il messaggio pieno di felicità che la ragazza ha scritto sul suo sempre molto seguito profilo personale Instagram. Lucas è un tifoso dell'Inter ma non esita a mettere da parte l'amore per la sua squadra del cuore con quello per la sua amata. Cosa che non tutti sono disposti a fare. Mercedes Zenger, San Valentino a Napoli col suo Lucas anche molti followers ci scherzano su. Per alcuni ed alcune San Valentino non sarà altrettanto speciale. La pandemia limita in molti casi la possibilità di potersi spostare o di potere avere la necessaria libertà per organizzare qualcosa di speciale. Quel che conta però è che il proprio partner senta che la persona amata sappia trasmetterle sempre emozioni e sentimenti forti, anche al chiuso di uno sgabuzzino. L'amore è tale ovunque, se sincero. Stiamo parlando del più forte degli stati d'animo che ci siano. Eppure bastano anche dei piccoli gesti, qualcosa di semplice come una carezza o preparare un caffè per l'altra metà, per trasmetterlo. Stiamo parlando del più forte del più forte del più forte. Grazie a tutti.